C'era una volta lo studentato di Vicenza. Si è vero, ci vuole buona memoria per ricordarselo perché oggi quel che resta è tutto dietro a questi muri alti e a questo portone chiuso. E il 2012, quando trema la terra d'Emilia, da allora il complesso di San Silvestro è fuori uso. Sono ormai nove anni che lo studentato di San Silvestro a Vicenza è chiuso, l'unico studentato universitario della città. È chiuso dal 2012 perché in quell'occasione a causa del terremoto dell'Emilia Romagna ci furono alcuni danni strutturali all'edificio e quindi fu chiuso. Ma parliamo di un edificio che ospitava 60 persone, che aveva oltre 20 camere per studenti, per i dottorandi, per chi frequentava l'università ed è fondamentale riaprirlo perché l'università è uno dei volani decisivi per il futuro di Vicenza. A suonare la carica è Giacomo Possamai, capogruppo del Partito Democratico in Consiglio regionale. A Vicenza ci sono quasi 5.000 studenti, di cui solo il 10% è della città, mentre il 60% arriva dal Vicentino e il 30% addirittura da fuori provincia. Quindi uno studentato come quello di San Silvestro sarebbe prezioso se solo fosse rimesso a posto e riaperto. Servono risorse, all'epoca erano state ipotizzate 400.000 euro per riaprirlo, oggi probabilmente ne servono di più. L'appello che facciamo prima di tutto alla regione è distanziare nel prossimo bilancio, nel prossimo assestamento, tutte le risorse che servono per far tornare lo studentato da aprire e per riportare gli studenti a Vicenza a prezzi calmierati, perché il tema del diritto allo studio è un tema fondamentale per il futuro dei nostri giovani.